Musica Hello guys, Renderna here Benvenuti in questo primissimo video qui su Dark Souls 2 Oggi su due canali differenti ma contemporaneamente Allora mi troverete sia sul canale di EveryEye.it Quindi se mi state vedendo da lì venitevi a seguire sul mio canale personale Che dovreste trovare in teoria qua sotto in descrizione E invece se mi state seguendo sul mio canale andate a seguire EveryEye.it Che ringrazio per avermi dato il gioco Che trovate sempre qua sotto in descrizione Detto ciò iniziamo subito con Dark Souls 2 Io questo gioco lo aspettavo da un'eternità E ho provato giusto giusto all'inizio ma proprio Mi sono fermato tipo 10 metri più avanti Perché purtroppo dovevo settare un po' l'audio eccetera Non me lo faceva fare dal menu iniziale E quindi ho dovuto farlo in questo modo qui Siamo nella versione per PC che mi stupisce Essendo 60 fps rispetto al primo che non lo era per niente Ma proprio un cazzo 60 fps il primo E devo dire che questa volta è abbastanza ben ottimizzata Ho avuto problemi a installarlo anche questa volta Anche con il secondo gioco ecco Con il secondo titolo dei Souls Se partiamo da Dark Souls 1 senza considerare Demon Però comunque diciamo che è andata abbastanza bene Ho trovato il modo di registrare E questo è l'importante La si andrà in qualche modo immagino Boh io mi sono fermato praticamente dopo questa porta E vi avviso tutti quanti Sia chi mi segue su EveryEye Che chi mi segue sul canale Che tutte le cutscene come quella iniziale Verranno completamente tagliate Per evitare problemi di copyright qui su Youtube Quindi nel caso volete vedere le cutscene Beh cercatele su internet Oppure semplicemente in un altro gameplay Purtroppo non voglio avere rischi Soprattutto su un canale che non è il mio Quindi continuiamo Perfetto Siamo entrati all'interno di una casetta Spero di avervi fatto vedere giusto lo scorcio iniziale In cui sono delle vecchie anziane Vestite completamente di rosso Che sono arrivata a chiederci Come ti chiami Se ricordiamo il nostro nome Beh io ovviamente metto Randy Perché mi sembra più che logico Confermi di chiamarti Randy? Sì grazie Perfetto Conosco il mio nome Sì lo conosco Sì grazie Ci regalano un'affigie umana Ottimo Che da quanto ho capito È il nuovo item per diventare umani Ok allora siamo arrivati A dover scegliere La classe In tutto e per tutto In pratica Quindi scegliamo Allora classe Classe Io Farei rispetto a quello che è il mio gameplay Sui vari soul Vediamo Abbiamo il bandito Il chierico Lo stregone Il discriminato Che sembra davvero tosso stavolta Sono indeciso tra guerriero e cavaliere Io solitamente faccio Dei personaggi improntati Sulla statistica della forza E questi sono i due Il due più improntati Ecco Però Mi sa che Visto che il guerriero Ha davvero poca vita Preferisco il cavaliere Dono Come dono scegliamo Kit curativo So del ritorno No Questo oggetto petrificato Mi piace Però Questo anello vitale Mi intriga molto di più Ripristi No Questo va bene così Corpo non ci interessa Aspetto non ci interessa No Corpo aspettate Sesso ovviamente Maschio Corporatura La facciamo Ecco così Fisico Muscoloso E l'aspetto Lo lasciamo di base Perché Vogliamo Non vi voglio attirare Tanto non è Non è malaccio Vi faccio vedere Non è proprio malissimo Biondo occhi azzurri Un grande stereotipo Quindi andiamo avanti Si confermo Ricordo Tieni strette le tue anime Sono tutto ciò Che ti trattiene Dal diventare vuoto Questa Questa vecchia La sa molto lunga Raga Questa è una grande trollata Prenderete tutte le tue anime Più e più volte Come se non lo sapessimo Che su Dark Soul Saremo costretti a morire 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 Ma alla fine Lo sappiamo I giochi Tosti Sono quelli Che poi ci piacciono Di più E' per questo Che tutti quelli Che provano Dark Soul Prima o poi Se ne innamorano Allora qua Ho tutto l'equipaggiamento Che ho ricevuto Grazie al preordine E quindi Andiamo un attimino A metterlo A posto Abbiamo un po' Di cosine Per chi non Avesse il preordine Vi faccio vedere Che cosa Vi siete persi Allora c'è un pugnale Di pietra nera Che vedete qua Le statistiche Poi abbiamo La spada lunga Di quarzo giallo Vorrei spostare Sto puntatore Sto mouse Ok Abbiamo la spada lunga Di quarzo giallo Che è peggio Di quella che ho io Però Però pesa anche di meno Eh non è male Il fatto che pesi un po' di meno L'accetta con catene E l'ammazza Dell'omuncolo Ah mica male St'accetta con catene Però 157 Scala su E come faccio a vedere Mostra info Non lo saprò mai Eh no Vabbè non fa niente Ok Allora Andiamo di qua Qua cosa abbiamo Inventario Bastore del trasgressore Un bastore E diversi scudetti Che sono sempre Appunto del DLC Io non posso usarli tutti Ve lo faccio vedere da qua Forse che è meglio Oh Eccolo qui Allora diciamo Questa scala su Forza Però scala un po' maluccio Vabbè Sono armi del DLC regalate Quindi è normale Abbiamo tutti questi scudi Io mi metterei Lo scudo Vediamo che scudo è questo 90 70 Eh No io direi Decisamente questo qua Però pesa No vabbè non pesa neanche tanto Dai Oh là Vediamo com'è Oh perfetto Abbiamo anche lo scudo Quindi avete visto Abbiamo fatto bene a scegliere Questa classe Per la spada ci lasciamo questa qua Nell'inventario abbiamo altro Abbiamo gemma vitale Le solite cose Ecco qua Allora io direi Prima di tutto di salire su Perché la mia curiosità Mi spinge a vedere Che cazzo c'è in questa casetta Oh Un baule Ok Iniziamo con i mimic No No Ebbè all'inizio dai Un effigio male Siamo già a due Buono 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 Qua si può rompere qualcosa Questo non si rompe Questo Questa roba pure non si rompe È stata rimossa la possibilità Di muovere gli oggetti Una volta rotti Peccato Mi divertivo un sacco Sull'uno Però va bene così Ok Io Adesso fossi nella mia partita Passerei tutto il tempo A parlare A questo signore Perché È importante Vedete Vi danno un sacco Di informazioni Sulla Appunto Sulla storia Del Del gioco E In realtà Si dovrebbe proprio Fare così Per un fatto Di tempismo Su Su Youtube Ah Questa è l'abbadante Di questo Anziane signore Ed è una cosa Familiare Da quanto dice Interessante Interessante E Le anziane Erano custodi Del fuoco Quindi Queste sono Le Sono vecchie Guardiane del fuoco Come quelle Che trovavamo Su Dark Souls 1 Interessante Questo è interessante Vedete È questo che serve Per lei Con gli NPC Io Non voglio Neanche in realtà Continuare a parlarne Tanto Perché Vi consiglio Tutti quanti Ovviamente Di comprarlo È un titolo Stupendo Ne esce uno Ogni morte De papa Così Quindi Compratelo Compratelo Perché non me ne pentirete Anche in versione PC Anche in versione PC Una volta tanto Le anziane Rasorelle Sì 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 Vabbè A quelle anziane Io ci parlerei Ma come vi ho detto Per tempi Di Oh Qua sta scattando Di brutto Carica Bello di bovino Per tempi Di registrazione È meglio evitare Ok Siamo dentro Una caverna Credo Siamo venuti da qui Prima Sì Siamo venuti da qui Allora aspettate Dobbiamo andare di qua Corri 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 Ok Questa porta qui Però È più forte Che me Ci devo parlare Questa ride E basta Perfetto Di andare Verso Viaggio Senza riposo Ehm Bloccavo Ok Quindi C'è la possibilità Di tornarci In questo posto Per inserire Di nuovo Da capo Ehm Ci dicono Nel trailer Che ovviamente L'avevo fatto vedere Perché Protetto Da copyright Ehm Praticamente Ci dicono che La maledizione Che abbiamo Del non morto Un falò Vi faccio vedere subito Allora Prima di tutto Andiamo al falò Accendi il falò Oh Che bell'effetto Questo mi ha sempre affascinato Ho visto Solo questa cosa Praticamente Ho visto pochissimo Di 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 Dark Souls 2 Ehm A livello di storia Cerco di saltarlo Il più possibile Ehm Perché voglio appunto Godermela Cos'ho preso Anima E una torcia Anima Quale anima Anima di nuovo Morto e perduto Vabbè Un'anima normalissima E una torcia Sto seguendo Il gameplay Di Sabaku no Maiku Che è un altro Ragazzo Che lo sta facendo Già da tempo Però Cerco di seguire Sì la storia Ma non In maniera Molto molto Approfondita Ehm Perché appunto Voglio giocarla Allora Ehm Vi faccio vedere Dicevo Il simbolo Della non morte Che dovrebbe essere Sul corpo Del non morto In teoria Da qualche parte Mi No No Ah forse perché siamo umani Quindi non lo abbiamo Ok va bene Va bene Va bene Va bene Quindi forse da umani Non lo possiamo vedere Comunque C'è una specie di marchio Ehm Che ci fa vedere appunto Che siamo dei non morti Io vorrei vedere un attimo Se qua c'è qualcos'altro Mi sembra di no Di qua Neanche E quindi ce la possiamo andare Ehm Prendeteci questo marchio Che ci dicono Le anziane signore Che piano piano Si espanderà Fino a risucchiarci Del tutto E farci diventare Vuoti Entra nella nebbia Questo penso sia un tutorial A meno che non siano tutti boss Mh Ho giocato da poco In realtà Sto giocando da poco Ehm Demon's Soul Che ancora non ho finito Uh Backstab Grande Ehm Demon's Soul Che è Bellissimo Ok Sì sì va bene Le varie maccariche di gioco Che già conosciamo Quindi Ci sta bene così Ehm Ed è Questo titolo Da quanto ho visto Per i vari gameplay Eccetera eccetera Gli assomiglia molto di più Quindi è una cosa Molto interessante In realtà Devo dirvi La verità Mi piace Mi piace il fatto che sia Ehm Una fusione un po' tra Il vecchio Il vecchio Dark Soul E il vecchio Demon's Soul Ti avrò muto Ah beh Percorrere Sì sì questo pure Lo sappiamo Voglio qualche Comando nuovo Che Semmai Uii Uii Quello è grosso però È da uccidere Mamma mia Quello mi sa che ci fa male Ok Facciamo il backstab Oh Arrivederci Bello 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 Questa spada Mi piace Ma che spada è? Ehm Spada 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 Come ti chiami? Ehm Spada larga Ah una semplicissima spada larga Vabbè Dai meglio di nulla comunque Partiamo con una bella spada Devo dirvi la verità Mi piace Mi piace Oggettino Pugnale Ah boh Dai Mica male Qua cosa ci dici? Rotola Perfetto Ah questo c'ha le frecce Ecco perché ci dice di rotolare Ma noi pariamo con lo scudo Uuuuh Che backstab Signori Che backstab La grafica Devo dirvi la verità Su pc Non è per niente male Mi aspettavo molto peggio E invece E E invece È una gran cosa Devo dirvi la verità Davvero davvero buona Le impostazioni sono molte Ve le faccio un attimo vedere No Non è questo È questo No Non si può vedere da qui Scherzavo Non ve le faccio vedere Sono parecchie C'è anche la possibilità di scalare La Ehm Appunto la La grafica Passarla Mi sembra che ci sono tutti E tre gli step A bassa Media e alta Sì però Ok Grazie E E la cosa ovviamente ci fa piacere Perché Per chi come me ha giocato Dark Souls 1 Su pc Sapeva che A meno che non si utilizzasse Il DSFX Che era un programmino esterno Ehm Non si poteva mettere a posto La grafica E si doveva giocare A una risoluzione davvero pessima E invece Ah ok X è un soggetto Vabbè Questo lo sappiamo Ehm Di là Non mi sembra nulla Quello è un altro player Ciao player che non ci puoi vedere E apriamo sta nebbia E niente Quindi bro Sono molto Molto contento Di questa cosa Ci sono state parecchie migliorie Ehm Eh Eh Sono davvero Questo è un nido Uh Dacci un liscio Dacci un setoso Questo è come Come snuggly Snuggly del primo Calcio a scala Ah ok Perché giustamente Ehm Come si scenderà Ehm Ok così Ehm Tenendo promuto Giù E B Perfetto Si scende velocemente Mi avevano Un mio amico Mi aveva avvertito Con Ehi Randy Sta attento Che se ti hai promuto B come nel primo Lasci la scala E perdi vita Quindi evitiamo Di fare stronzate Si fa con Giù E Tenendo promuto B Ok Sì sì La sto tenendo A due mani L'arma adesso Prima la stavo tenendo A due mani O no Non mi ricordo Però va bene così Ok Mori Oh bellissimo I 60 fps Rendono tutto Ancora più bello Anche perché Sempre per Ritornando alla cosa Ah ok Ah si salta con Con LS Con l'elevetta sinistra Ok Quindi io sto giocando Ovviamente con Il pad Ah bello il salto Però così Ehm Non male Non male Racco di oggetto Erbambrata Erbambrata Cos'è? Erbambrata Riprisse leggermente Gli utilizza Gli incantesimi Un'erba annuale D'alcoolerambrata Cos'intenso Da dare l'impressione Di luminescenza Riprisse Una piccola quantità Degli utilizzi Degli incantesimi Ma non male Non male Non male Devo dire la verità Non male Ok Si corre più velocemente Mi sembra Parta prima Lo scatto Dell'uno Però mi sembra Molto più simile A Demon's Soul Sotto questo punto di vista Allora io Vorrei dire Non sono un esperto Né dell'uno Né dell'altro Cioè nel senso Né di Dark Soul 1 Né di Demon's Soul Però ovviamente Ci ho giocato Quindi qualche Qualche Somiglianza La trovo anche io LS sfonda guardia Ah sarebbe Aspettate Sarebbe Il calcio Sarebbe il vecchio calcio Che non si fa così E rendi però Si fa Così Ok Ok Perfetto Va bene Io direi che Attacco in salto Sta da fare No Olla Bellissimo No No Ok Finita la stamina Abbiamo poco Stamina Abbiamo personaggi A livello basso Una porta Una porta Apri la porta Apri la porta Oh Globe Dell'occhio rosso Inclinato Ah per fare Per l'online Cos'era questa Una casetta Una prigione Forse una prigione Forse Sì Una prigione Decisamente Non c'è la maniglia Dietro la porta Bello 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 Mi piace Mi piace Andiamo a vedere qua Cosa c'è scritto Vabbè Attacco in salto L'abbiamo fatto Ma possiamo farlo Anche da così Adesso No Ovviamente Ovviamente no Però possiamo fare Quello dopo la rotolata Probabilmente Ma poi Ma lo provo Però In tanti episodi Allora Parlando con quelli Che sono iscritti Al mio canale Vorrei Fare tutta la serie Sul gioco Però Non so Appunto Se Se farla Se non farla Vediamo un pochino Anche da voi Se siete interessati E Alla Io direi di entrare di qua Visto che Ci sono dei nemici Visto da fuori Entriamo Ce le stiamo facendo tutte Ehm Come ci arrivo lì? Chiedo scusa Come Oh Come ci arrivo lì? Esamila l'aria circostante Ah Fai cadere Io che Volevo dargli una ammazzata Con la spada Aia Ma guarda quello Che Piece of bitch No 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 Ok Si Ah 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 Ok Perfetto Ok Qua dobbiamo scendere Immagino Là c'è un tizio Riusciva a fargli attacco in salto Ah là c'è un altro Ok Riusciva a fargli un attacco in salto A questo? No Ci siamo solo fatti un grande danno Ok Gemma vitale Come si usa? Ok Ah Recupera vita un po' nel tempo Perfetto Saliamo su Saliamo su Ok Ok No 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 Ah Vedete quello era lo spezzaguardia E bravo Bravo bro Bravo bro Che ci hai fatto lo spezzaguardia Aspetta che vengono per ti L'anus Devo ringraziare Ancora Perché per me è davvero un piacere E un onore Tra 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 le tante cose Essere qua A fare un video sul loro canale Che comunque è una cosa molto Importante Ecco Per me è un bel traguardo E Poi con un titolo così interessante Non potevo chiedere di meglio Ecco Sono stato davvero 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 contento Quindi ringrazio tutto lo staff Di Every Eye Per avermi dato Questa possibilità Allora c'è il tipo enorme Oh Bitch Ok Sì però due siete tanti Siete troppi Due Siete proprio troppi due E cade Io ti massacro con la mia spadina No 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 Io scherzavo Ti massacro proprio Corri 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 bro Corri 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 Fa cadere sto coso Aiuto 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 Sali 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 Ok Perfetto So che è un po' da vigliacchi Ah non ci seguono Perfetto Eh so che è un po' da vigliacchi Ma fanno un danno Allucinante Quei cosi C'è da scappare Per forza Non so da quanto tempo Stiamo registrando Cercherò di fare un video Non troppo lungo Anche perché devo caricarlo Due volte Quindi non è proprio Il massimo Però dai Vediamo di fare Viaggia Ah Ok Il teletrasporto Sì 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 Si brucia Cos'è brucia Eh Questo è Un'ufficio Per trasformare Blah 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 Se si osserva Attentamente l'ufficio Ah Ok Ok Perfetto La cassa oggetta È già implementata Di base E questo anche È molto utile Ma abbiamo un elmo Fermi tutti Fermi tutti Abbiamo un elmo Datemi l'elmo Oh Eh Non è una gran cosa Allora Dicevamo Ah Se vedete Sotto Le stats Sotto le armi Ci sono quelle barre Che sono Penso la durabilità Dell'item È interessante Vedere che prima Erano A un certo punto Adesso Sono stato Al falò Si sono rigenerate Quindi Probabilmente Si È cambiato Il metodo Di utilizzo Dell'arma Non è più come Come era Una volta Interessante Interessante Davvero interessante Io vorrei Agrarne solo uno Uno alla volta Posso Cercare anche Di gestirlo Ma due no Due sono davvero Troppi Però Devo farlo L'attacco Il salto Ma di cosa Attacco Uh Uh Che violenza Oh posso usare L'ho fatto Pure prima Ah Ah Ok Prima morte Prima morte per Randy Benvenuto in Dark Soul Grazie Non so se voi vedrete L'archivement Perché sarà in alto a destra E probabilmente Metterò là La webcam Però Grazie Grazie Per il benvenuto In Dark Soul Effettivamente Mi mancava E quindi Adesso siamo Non morti Giusto Fatemi vedere un po' Vediamo se riesco A farvi vedere il marchio Oddio Quanto siamo brutti Mamma mia Eccolo qua Vedete il marchio Aspetta se riusciamo A zoomare Eccolo qua Questo vortice nero È il marchio Della non morte Che In teoria Più diventiamo Vuoti Più si dovrebbe Espandere Da quanto Ho capito Poi ovviamente Semmai ho frainteso E quindi GGVP A me Andiamo a riprenderci Le nostre anime Almeno quelle Poi semmai i tizi Li lasciamo lì Belli dove sono Ci tornerò un giorno Quando avrò Un equip più decente Quindi Vi invito A seguire Tutta la serie Per vedere un po' Come sarà appunto Il gioco Perché Secondo me Sarà un gioco Epico Davvero epico Eeeh Bitch Però Lì proprio No Ok Cioè Se gli stai così Non Non vi No 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 Eh no Però così poi Li agri entrambi No ma Tutto ciò Non ha senso Oh signore No 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 Questi sono Decisamente Troppo forti Da fare Per me All'inizio Non voglio Sprecare Le gemme vitale Quindi Ce ne andiamo Tranquillamente Per il nostro Per il nostro Sentiero Che penso Sia di qua A questo L'abbiamo fatto Ok Quindi dobbiamo andare Semplicemente dritto Ola Sperando che non ci siano Altri nemici Come quelli Perché se no Davvero inizia male Peggio di dimonsolo Dimonsolo L'inizio è tostissimo Leggi il messaggio Sia lodato il sole E sia lodato Che cazzo è questo Che c'era scritto Sia lodato il sole Sia lodato il sole Ma non lo so Non lo sai tu Però Questo cos'è Parete illusoria Più avanti Sì Cioè All'inizio Proprio Proprio E io ci provo pure No Così No Vabbè Comunque Andiamo avanti Cos'è qui Cos'era questo Ora inizio il vero scontro Eh penso proprio di sì Uh la luce Eh avevo letto Delle luce dinamica Avevo visto anche qualcosa Ovviamente Ah guardate La luce dinamica Che bella Majula Majula E siamo arrivati A quello che sarà Il centro Del nostro gioco Eh Per Appunto Per tutto il gioco Quello che era Ehm Che era il santuario del fuoco No? In Dark Soul 1 Immagino Guardate che figata l'ombra Partita la musica Spero riuscite a sentirla Guardate che bella la luce Eh Raga Questo È un gioco Che aspetto Davvero Da tanto tempo Ehm Penso si veda Il fatto che Sì Sono abbastanza emozionato Chi Ehm Chi mi segue da tempo Sa Un falò Sa che Solitamente parlo A raffica Ehm Invece oggi Sono particolarmente Zitto Perché È davvero un'emozione Per me Provare un titolo Del genere Per farvi capire Ieri stavo giocando Ancora Dark Soul 1 Quindi Tanta roba Che è quella? Vediamo Eh Eh Sono appena arrivato Bella Dov'è la Portatore La maledizione Sì Sto cercando Rivederla bene Fieschetta Esos Grazie Colui che Scrutola È senza Della stessa Della stessa Dell'anima Revendrick Oh Può essere di livello Con il potere Dell'Araldo Dello Smeraldo Quindi lei È l'Araldo Dello Smeraldo Vediamo Fagile e pallida Ok Eh sì Vorrei salire di livello Però Ah Ho saltato Ok I quattro Di anime Di immense anime Le loro anime Saranno dei fari Per te Quando avrai trovato Ti torna qui da me Va bene Affinché Che la speranza Non si svanisca Quindi è tipo Come Le quattro anime Dei re Per Per Dark Souls 1 Penso Penso Più grande Potenti Cerca il re Perché è l'unica via Infatti con molti altri Oh Avanza di livello Grande Grande Non posso salire di livello Quindi va bene Così Bellissimo però Perfetto Perfetto Sono contento Sono davvero Davvero contento Ma posso Aspettate Ho visto quelle freccettine Che mi Mi stavano Perché fanno Ci sono quelle freccettine Su e giù Che cosa Intende dire Forse che qualcosa Alza Qualcosa si abbassa Può essere Non lo so Non lo so Potenza Fiaschetta Estus Consegnare Frammenti di Fiaschetta Estus Sì Non possiede Frammenti di Fiaschetta Estus Eh lo so Lo so Lo so Lo so Lo so Allora bro Abbiamo una fiaschetta Estus Ce l'abbiamo occupaggiata No Equipaggiamola Quindi facciamo No Togliamo un attimo questa Mettiamo la fiaschetta E qua ci mettiamo Ok Allora bro Abbiamo finalmente Preso la fiaschetta Estus Siamo arrivati a Maggiura Abbiamo fatto La intro E io vi fermo qua Perché Per il momento Voglio sapere anche Da parte vostra Appunto Se siete interessati A questo tipo di serie E anche se voi Di EvryEye.it Mi conoscevate O adesso mi conoscete E siete interessati A seguire la serie Sul mio canale Noi ci vediamo In un prossimo video Lasciate un mi piace Sia al mio video Che Cioè Entrami i miei video Quindi sia sul mio canale Che su Quello di EvryEye.it Iscrivetevi A uno dei due canali Se non l'avete già fatto E ci sentiamo Sulla mia pagina Facebook E a un prossimo video Enjoy E che la rena sia con voi Bye bye Ancora un grazie A EvryEye Ovviamente Ciao Ciao Lasciate un espero Grazie a tutti.